Buongiorno a tutti, benvenuti. Cominceremo perché, come avrete capito, cominciamo adesso il professor Francesco Profumo, rettore del Politecnico, si scusa ma ha dovuto andare sia ieri sia oggi in viaggio via per lavoro e il professor Marco Aimone in sua vece passare nel corso della giornata a salutare. Visto che questa giornata è ricca, troppo ricca forse di interventi, dovremmo fare un enforcement dei tempi rigoroso, per quello che ho parlato questo. Cioè sia io sia gli altri chair sanno invitati a usare questo strumento e tenere i tempi in maniera molto ferrea perché altrimenti la giornata rischia di diventare complicata. Allora innanzitutto due parole di benvenuto come codirettore del Centro NEX su Internet e Società del Politecnico, vi do il benvenuto qui a Torino, so che molti sono venuti da fuori Torino, da fuori Italia, grazie molte, siamo onorati di avere la vostra compagnia, la vostra presenza. Il Centro NEX su Internet e Società è un centro di ricerca multidisciplinare del Politecnico, in particolare del Dipartimento dell'Automatica e Informatica, che si occupa di studiare Internet dal punto di vista tecnologico, giuridico ed economico, almeno in questa prima fase iniziale della vita del centro. Siamo stati fondati alla fine di novembre del 2006, quindi ormai sono tre anni, quasi esattamente al giorno preciso. La vita del centro è decollata in questi ultimi 12 mesi, quindi ci sembrava opportuno fare un incontro per presentare, ovviamente a chi già ci conosceva, ma anche al pubblico in generale, le nostre attività e i nostri interessi, ma discuterne anche con il pubblico in maniera tale anche da intercettare esigenze, problemi, prospettive che non ci sono venute in mente, perché chiaramente siamo limitati come tutti, abbiamo un certo punto di vista ed è fondamentale confrontarsi con gli altri. Allora, la natura di questo incontro, vorrei che fosse chiaro fin dall'inizio a tutti, è una natura non tanto semplicemente di presentazione dei nostri risultati, ci saranno alcuni i nostri risultati, ma in alcuni casi semplicemente presenteremo dei nostri punti di vista, dei nostri tentativi di impostazioni di ricerca iniziali e soprattutto sarà di natura divulgativa. Questo non vuole essere un incontro né strettamente tecnico, né strettamente giuridico. Se comincerò a notare, e invito anche gli altri CER a fare la stessa cosa, un approfondimento troppo specialistico in qualunque settore, interverrò con lo strumento che vi ho fatto sentire prima, perché è fondamentale che siamo tutti presenti e siano in grado di seguire il filo del discorso, che si parli di naturalità della rete, che è prevalentemente un aspetto tecnico, che si parli di copyright, che è un aspetto prevalentemente giuridico e così via. Questo è anche dettato dal fatto che i tempi sono limitati, quindi mi aspetto che gli interventi a partire dal mio, siano interventi in cui si cerchi di chiarire che cos'è il tema, quindi per esempio cos'è la neutralità della rete, perché è rilevante, perché è rilevante in un ambito non strettamente specialistico, vorremmo riuscire a spiegare perché tutti i temi in agenda sono rilevanti in realtà per qualunque cittadino. Quindi se alla fine della giornata, sessione per sessione, siamo riusciti a chiarire un concetto a spiegare perché è rilevante per un singolo cittadino, avremmo raggiunto l'obiettivo di questa giornata. Se poi riuscissimo anche, rispettando i tempi, come dicevamo, a sfruttare quei pochi spazi di discussione o magari quei minuti che riusciremo a ritagliare sessione per sessione, per un confronto con voi, saremmo sommamente contenti, perché è proprio questo uno degli obiettivi della giornata. Quindi, la giornata come è strutturata? Se avete il programma davanti, abbiamo tre sessioni sostanzialmente. Una prima sessione, il futuro di internet tra tecnologia e diritto, che sarà coordinata dal dottor Filippo Agrin, che è qua alla mia sinistra, Sopin Spaz Francia ed è un garante del Centronex, ex Commissione Europea. Poi abbiamo una seconda sessione che vedrà me nel ruolo di coordinatore Cerbero, che è il futuro dei contenuti digitali tra diritto e tecnologia. E infine, oggi pomeriggio, una terza sessione, che è un ritorno in attività di una serie di incontri che abbiamo fatto a livello nazionale a partire dal 2004, cioè Credit Commons Italia, o CCT, che in questo caso è CCT 2009. In passato l'avevamo fatto nel 2004 per il lancio delle licenze, quindi in realtà in quell'occasione avevamo semplicemente celebrato il lancio delle licenze, ma nel 2005, nel 2006, ce l'avevamo incontrati nella romagna del Politecnico all'ingotto e diversi di voi erano presenti, per provare a fare il punto della situazione in Credit Commons in Italia, di questo progetto internazionale che coinvolge ufficialmente 50 paesi, fare il provare a dire a che punto siamo in Italia, lo faremo di nuovo sotto forma di sessione dalle 15 alle 17.30, grosso modo, oggi pomeriggio, sotto la moderazione di Federico Morando, che è il Managing Director del Centro NEX. Allora, questa è la struttura complessiva, al mattino, visto che stiamo iniziando alle 10.30, non faremo una pausa a caffè, ci sarà una pausa a pranzo alle 12.45 di un'ora e poi ci sarà una pausa a caffè invece a metà del pomeriggio. L'obiettivo è di chiudere rigorosamente, non più tardi delle 18, ora a cui saremo di sicuro stremati, ma spero contenti. Allora, a questo punto passo la parola a Philippe Gran, come coordinatore della prima sessione. Prego, Philippe. Buongiorno, come Ron Carlos ha detto, sono Filippe Gran, sono uno degli garanti del Centro NEX e come potete sentire sono francese. Nella prima sessione abbiamo quattro speaker che devono parlare di tutti i soggetti essenziali dell'Internet Policy. È un vero crash course per sapere tutto che c'è bisogno di sapere per capire i dibattiti degli prossimi anni. È davvero Nelly Cruz, la nuova commissaria per il Digital Agenda dovrebbe essere qui per preparare la sua audizione nel Parlamento europeo. Con quattro speakers e due discussanti abbiamo pochissimo tempo per domande del pubblico. Propongo che le persone che hanno domande o commenti scrivono su piccoli pezzi di carta e mi portarli. Al fine della sessione sceglierò una domanda per speaker e gli altri possiamo metterli sul website della conferenza e forse gli speaker vanno a rispondere. Adesso cominciamo per un vero sfido per il mio amico Juan Carlos, co-director di NEXA, a spiegare gli post in gioco nella Network Neutrality in meno di 15 minuti. In realtà è ancora più difficile perché visto che siamo partiti in ritardo cercherò di autocontenermi ancora di più perché mi sembra giusto che sia io a farlo e non altri ospiti. Per neutralità della rete intendiamo è un concetto che sulle pagine dei giornali almeno da tre anni, sulle prime pagine del New York Times ma anche del Corriere della Sera, di Le Monde eccetera e quindi l'obiettivo di questi pochi minuti ma neanche di approfondimento, semplicemente di introduzione è cercare di capire perché, cosa si intende per neutralità della rete e perché è rilevante. Per fare questo in diverse occasioni ci capita di parlare dell'architettura di internet, quindi come è stata concepita originariamente internet. Internet è stata concepita originariamente come un'infrastruttura di telecomunicazione decentrata nel senso che qualunque nodo della rete può trasmettere, essere originario di un pacchetto di dati e può essere uno smistatore di pacchetti di dati. Quindi qualunque singolo pc, incluso questo piccolo netbook IA, può essere configurato qui e può essere configurato come un nodo di internet che riceve pacchetti, genera pacchetti di smista. Allora questo, inizio degli anni 60, fine anni 50, quando si cominciava a intravedere alcuni visionari cominciavano a intravedere che i computer avrebbero avuto un futuro come computer connessi, cosa che all'epoca richiedeva una notevole capacità di visione perché i computer non erano affatto ancora connessi. Alcuni visionari però intuivano che si andava in quella direzione, tra l'altro non soltanto in occidente ma quanto pare anche nel blocco sovietico, almeno come a livello di concetto astratto. E quindi si è pensato di costruire in parte per motivazioni ideologiche, se è vera questa teoria affascinante che sentivo di un interesse per reti di computer decentralizzate nel blocco sovietico o per motivi militari come una delle spiegazioni correnti di una delle possibili spiegazioni correnti della nascita di internet, si è pensato di costruire una rete dove non ci fosse una struttura gerarchica e un controllo. Allora questa era la norma ed è tuttora la norma, la rete telefonica è una rete posseduta da qualcuno, una volta monopolisti pubblici, adesso tendenzialmente incumbent privati, dove se volendo introdurre qualcosa di nuovo all'interno di questa rete era obbligatorio chiedere il permesso, contattare chi possedeva la rete. Volete introdurre un nuovo servizio innovativo su una rete telefonica oggi, cellulare o fissa che sia, la procedura è, contattate i quartieri generali della società telefonica. Questo era il modello di telecomunicazioni dominante, motivato anche dalla tecnologia stessa, la tecnologia stessa per come era stata impostata nel caso dei telefoni alla fine dell'ottocento e inizio del novecento era particolarmente adatta a un'organizzazione gerarchica di questo tipo. Internet no, internet prevede che basti semplicemente scrivere del software che rispetta alcune specifiche tecniche di base, cioè rispetto di un protocollo chiamato il protocollo IP e fatto questo qualunque applicazione di qualunque tipo può funzionare. Il che vuol dire non devo chiedere permesso, più tardi nel corso della mattinata sentiremo anche il collega Mario Calderini che è un esperto di management e innovazione, ci racconterà proprio più specificamente quanto è interessante una piattaforma dove si può innovare senza chiedere permesso e anche indipendentemente dagli effetti che questa innovazione porterà, introduco voice over IP che mette in crisi potenzialmente almeno in parte il telefonia tradizionale, si può fare in questo contesto con questo tipo di rete. Allora, una rete decentralizzata dove chiunque può introdurre pacchetti che contengono dati di qualsiasi tipo, che vanno a qualunque altro nodo della rete e che possono realizzare un qualunque tipo di applicazione, che sia telefonica, che sia televisiva, che sia instant messaging, che sia web mail e così via, quindi questa è utilizzando qualunque dispositivo, che sia un portatile o che sia uno smartphone, allora questa neutralità, questa indipendenza dal tipo di dispositivo, dal tipo di applicazione, dal nodo originario, dal nodo destinatario e dal contenuto dei pacchetti, i pacchetti sono bit, i bit sono bit, indipendentemente se sono file mp3 o file pdf o file powerpoint, questa neutralità, questa in realtà è una cecità, non mi interessa il pacchetto cosa faccia e cosa contenga e dove vada, questo è quello che in questi ultimi anni siamo arrivati a chiamare come neutralità della rete, quindi una rete agnostica che supporta qualunque tipo di attività, allora questo, lo dico da ingegnere, è di nuovo una grande novità perché le reti di telecomunicazione precedenti hanno state reti invece non solo gerarchiche controllate ma ottimizzate, la rete telefonica è stata ottimizzata, tra l'altro un capolavoro di ingegneria per trasportare la voce e solo la voce con straordinaria affidabilità, negli anni 50, 60, 70 si è raggiunto l'apice dell'industria telefonica con una affidabilità del 99,999% con una qualità garantita, questa invece internet nasce come qualcosa non ottimizzato per fare nulla in particolare e ce ne accorgiamo, a volte l'email non arriva, a volte l'accesso a un sito web è distorto, l'aspetto positivo di questa apparente assenza di qualità di servizio è che è polimorfica, che supporta applicativi e usi che non erano previsti, sicuramente non erano previsti neanche dei visionari degli anni 60, Maurizio Ferraris, il filosofo turinese raccontava in Aula Magna il Politecnico mercoledì che nel 2001 di San nello Spazio, un film straordinario, fatto nel 1968, c'è un piccolo aspetto, che gli astronauti e le persone che ci si immaginavano nel 2001 usavano le macchine da scrivere, lo andrò a rivedere ma ci sono le macchine da scrivere perché nel 1968 nessuno riusciva a immaginare un'alternativa, allora questi usi non previsti, non aspettati, fanno parte di questa cultura internet che vede nella neutralità della rete, una rete agnostica, come un patrimonio. Cosa sta capitando? Quindi questa è la mia definizione sicuramente imperfetta di cosa intendo per la neutralità della rete. Cosa sta capitando in questi ultimi anni? Allora questa neutralità della rete ha permesso da una parte uno straordinario fiorire di iniziative, allora di iniziative se lo guardiamo dal punto di vista tecnologico, innovativo, imprenditoriale, ha permesso un enorme fiorire della libertà di espressione, perché qualunque pacchetto, i pacchetti possono anche essere blog, dove mi esprimo, possono essere video, possono essere audio, podcast, quindi un fiorire della libertà di espressione, un fiorire di innovazione e di attività di vario tipo, applicativi nuovi non pensati in precedenza come il voice over IP, il stand messaging. Ovviamente questo, visto che capitava senza chiedere permesso agli interessi costituiti, ovviamente, ha dato sicuramente fastidio a industrie tradizionali e questa è una prima potenziale fonte di interessi che potrebbero voler cambiare la neutralità della rete, questa piattaforma troppo libera, troppo polimorfica. Un secondo aspetto è che gli utenti internet fino a questo momento per usare internet hanno dovuto, dobbiamo tuttora fare una sola cosa, comprare accesso alla rete. Nel momento in cui compriamo accesso alla rete e diventiamo un nodo della rete, ci connettiamo con la DSL o ancora col dial up e diventiamo un nodo di internet, a quel punto abbiamo pagato il nostro pedaggio, giustamente ci forniscono servizi e paghiamo il pedaggio, ma a quel punto siamo un nodo della rete e ci aspettiamo che i pacchetti raggiungano qualunque destinazione. Si vuole fare un passo ulteriore, cioè chi detiene i clienti, quindi gli internet service providers, alcuni internet service provider dovrei dire più precisamente, che hanno clienti, vorrebbero poter aggiungere un ulteriore pagamento, cioè tu sei un nodo della rete, vuoi mandare pacchetti ai miei clienti, se vuoi raggiungere i miei clienti, devi pagare un ulteriore balzello, un ulteriore pagamento. Cosa che suona, può suonarvi bizzarra, ma in realtà è la norma, nella telefonia cellulare funziona così, sono le tariffe di determinazione, non basta avere un telefono cellulare ed essere su una rete mobile per raggiungere l'utente dell'operatore Y, bisogna anche che il mio operatore paghi una tariffa di determinazione. Allora si vuole introdurre una tariffa di determinazione per le reti internet, il beneficio economico per chi lo propone è assolutamente evidente, la motivazione che viene adotta è che, la più comune in questi ultimi due anni, è che sono necessari grossi investimenti per costruire le reti del futuro e che questi grossi investimenti sono talmente di una entità talmente grande che hanno bisogno, chi farà questi investimenti avrà bisogno di un ritorno economico. Questo lo presento semplicemente come la posizione che è stata argomentata in questi ultimi mesi, non abbiamo assolutamente il tempo di approfondire quanto sia motivata una posizione di questo tipo, però questo è quello che è stato detto fino a questo momento, ci sono diverse possibili risposte, si può dire allora l'investimento lo fa il pubblico, una partnership pubblico privata, eccetera, però questo è il punto. Allora, quello che voglio lasciarvi per rispettare la mia promessa di autocontenermi è quella di dire qualunque posizione chiaramente è accettabile come contributo al dibattito e come richiesta, nella valutazione se accettare o meno proposte di questo tipo o analoghe che modifichino questa rete agnostica che vi ho descritto prima, è assolutamente fondamentale calcolare attentamente l'esternalità di un cambiamento architetturale. Cambio, modifico questa architettura, può avere un impatto sull'innovazione, quindi sì, magari alcune grandi internet service providers avranno un beneficio economico, ma magari uccidendo migliaia di potenziali piccole start-up che magari potevano essere la prossima Google o la prossima Microsoft, quindi impatto sull'innovazione e magari il collega Calderini dirà qualcosa in proposito. Può essere un impatto sulla libertà di espressione, voglio esprimermi con un video, con un audio, con del testo, ma non posso permettermi di pagare un balzello per raggiungere agli utenti dell'operatore Y, mentre invece il grande media conglomerate sì, questa può essere allora un'esternalità di tipo stavolta civile e politico di una discriminazione a livello della libertà di espressione e i nostri ospiti Andrea Carola e Carlo Blengino, magari ci diranno qualcosa in proposito. Può essere un impatto dal punto di vista anche di creazione di nuove applicazioni su internet, esattamente come abbiamo fatto in questi ultimi vent'anni, che possono essere scoraggiate perché la nuova applicazione non si può permettere un pagamento up front a un internet service provider per decollare. Chi ha inventato per la prima volta la chat, un ragazzino israeliano ha preso, ha scritto il programma, l'ha messo online e questo programma si è diffuso poi molto rapidamente perché la cosa piaceva. Se avesse dovuto all'inizio, a 19 anni, pagare n operatori per essere sicuro che quei pacchetti passassero con la rapidità richiesta per un'attività di chat, probabilmente non avrebbe mai decollato o magari avrebbe decollato 5-10 anni dopo. Quindi nel dibattito se neutralità da rete, come in realtà quasi tutti questi temi di cui parleremo oggi, rifiutare le semplificazioni, rifiutare le semplificazioni del tipo dobbiamo investire 8 miliardi di euro, dateci in cambio questo, ma tenere conto di tutti gli aspetti e dare ugual peso agli aspetti strettamente economici come invece agli aspetti più culturali e più sociali. Mi autolimito qui e do di nuovo la parola al nostro moderatore. I due prossimi speakers vanno a parlare della libertà di espressione e dei pericoli che è la minaziana e è un soggetto molto adeguato per oggi perché nelle sei mesi abbiamo veduto ricognizioni dell'importanza dell'essenziale dell'assesso a internet come strumento della libertà di espressione. Ma quelle ricognizioni erano risponde a offensive che propagano restrizioni all'accesso a internet in nome dell'esecuzione del copyright. Andrea Queirola è un esperto internazionale sulla libertà di espressione internazionale sulla libertà di espressione e le media, ha lavorato all'UNESCO e un fellow del Nexa Centro come Carlo Biangino che sarà il discutente. Forse Andrea Carola è più conosciuto qui come il scrittore e codirettore di Citizen Berlusconi, ma è molto importante avere qualcuno che ha lavorato sulla libertà di espressione e le media in molti paesi perché oggi non solo in dittature lontane c'è problemi con la libertà di espressione e internet ma anche in nostri paesi. Carlo Blencino è un avvocato torinese che ha lavorato su case dove il diritto di condivisione era iniziato in nome del copyright. Siete liberi di come organizzare, di come condividere il suo tempo ma il tempo rimane il stesso? No, siccome io avrei dovuto fare il discussion ma avrei avuto bisogno di minor feeling con il mio speaker, avrei preferito avere un senatore Dalia qui e allora il discussion mi veniva più facile farlo. Abbiamo deciso, proprio per essere molto sintetici, io inizio io con solo un 20 secondi per dire questo e cioè che chiederò ad Andrea di parlarci della libertà di espressione ma cercando di vedere la libertà di espressione non tanto come viene tratteggiata apparentemente dalla nostra Costituzione, cioè dall'articolo 21, cioè quindi come un diritto di esporre, un diritto di comunicare, quanto come un diritto a prendere, un diritto ad accedere. Cioè la libertà di espressione a partire dal dopoguerra e quindi dalla dichiarazione universale dei diritti dell'uomo aveva già in sé un aspetto che oggi è diventato dirompente, che era quello di cercare, ricevere e diffondere informazioni. Quindi il cercare e ricevere come parte del diritto costituzionale, della libertà di espressione e mi pare in internet non dico più importante ma in qualche modo fondamentale perché è lì che internet ha secondo me rivoluzionato in maniera impensabile nel 48 quando fu inserito. Poi è stato ripreso dalla dichiarazione dei diritti fondamentali dell'Unione Europea e di nuovo è in quella che era la carta di inizia e che oggi è Lisbona. L'articolo 11 è la libertà di espressione e di informazione. Allora io, Andrea Cairona, chiedo di parlarci di questo diritto in internet anche e soprattutto sotto questo profilo, cioè di accesso all'informazione. Sì, il tema della libertà di espressione e internet è un tema in sé talmente evidente per chi ovviamente come noi si è interessato a internet e specialmente evidente per le nuove generazioni, i nativi digitali, tant'è che per loro quasi può essere un sinonimo. Allo stesso tempo se andiamo invece indietro ovviamente nella storia, questi diritti a ricevere e diffondere informazioni si sono formati con una stratificazione ovviamente di lotte, di dinamiche, che culminate nel momento in cui nel dopoguerra sono nate i documenti fondamentali a livello internazionale su questo come la dichiarazione universale dei diritti dell'uomo, poi la Costituzione italiana. E' eccezionale a posteriori vedere come rispetto agli sceneggiatori di 2001 o di 6 nello spazio, in realtà le persone che hanno scritto questi documenti hanno visto lungo, perché hanno messo delle formulazioni che in qualche modo hanno, se vogliamo, lasciato aperta la possibilità a un qualcosa che non conoscevano ancora. E per esempio nell'articolo 19 della dichiarazione universale delle diritti dell'uomo si parla appunto di right to seek, impart and receive information attraverso qualunque media. E quindi questo qualunque media è arrivato, ed è un media che ovviamente ha avuto una capacità di incredibile accelerazione del potenziale di espressione, di libertà d'espressione attraverso questi tre elementi. Detto questo, quindi il tema della libertà d'espressione su internet può essere visto anche come una sorta di ombrello che raccoglie tante questioni, tante dinamiche, che si stanno sviluppando e stanno evolvendo insieme alla rapidissima evoluzione di internet. Una di queste dinamiche è assolutamente la questione infrastrutturale, direi, e la questione della neutralità della rete che Juan Carlos ha descritto. Così ce ne sono altre. E per cercare appunto di definire, di analizzare la libertà d'espressione, forse, come diceva il professore, è anche importante vedere chi si oppone, chi ostacola questo processo. Abbiamo forse tre categorie di attori. Ci sono gli attori governativi, che possono essere ovviamente le dittature, ha anche attori che operano in contesti democratici, ma che per varie pressioni risultanti, per esempio di dinamiche legate a pressioni delle lobby, impongono alla rete e allo suo sviluppo dei freni, i casi più evidenti ovviamente sono i filtri o l'arresto dei blogger. Poi ci sono una serie di attori che ne ostacolano lo sviluppo da un punto di vista di priorità commerciali. Quindi la questione del copyright è ovviamente una, ma c'è la questione ovviamente anche della neutralità della rete, vista dal punto di vista del profitto, per esempio delle compagnie telefoniche che allestiscono le reti. E un terzo gruppo di attori sono attori della società civile, che a volte in nome di argomenti assolutamente condivisibili, come per esempio cercare di limitare la diffusione di determinati contenuti, ovviamente la xenofobia e la pedopornografia sono i più ricorrenti, sostengono la necessità di imporre dei vincoli. Nel momento in cui si parla di queste dinamiche, è sempre secondo me, in un momento in cui non esiste una risposta assoluta a questi grossi interrogativi e dilemmi che comunque si pongono quotidianamente, è sempre importante andare probabilmente a vedere quali sono le intenzioni di chi propone questi freni. Adesso il tempo è scarsissimo, non so come vuoi impostare la discussione, se vado avanti sul progetto di ricerca. Io ne avrei mille di domande da farti, quindi posso anche iniziare subito a fartene qualcuno. La prima domanda per essere proprio molto pratici e concreti e calare un po' in Italia è di attualità. E mi viene in mente come ostacolo, mentre riflettevo l'altra serie, ma quali sono gli ostacoli oggi in Italia? Mi è venuto immediatamente in mente il DDL Pecorella, di cui si parla molto in questi giorni, cioè il problema del blog e della mass media, cioè è stampa il blog, cioè devo ampliare la normativa sulla stampa anche ai blog e ai contenuti sui siti o no? O questo limita la libertà di espressione della rete? Io devo dire che la rete ha erto dei muri terribili se si gira contro questo DDL Pecorella. Io lo pongo come problema, perché se è vero che registrare i blog è una forma comunque di controllo, è anche vero che la stampa ha delle guarentigie tipo la non sequestrabilità, tipo tutta una serie di garanzie di libertà che evidentemente non ha chi si limita a esporre nella rete le proprie idee. L'unica cosa che dico è che per esempio un effetto della libertà e di internet è che quello che era un diritto, o meglio un principio, cioè il diritto di critica e di cronaca, che noi abbiamo sempre pensato legato ai giornali, ai giornalisti, cioè all'informazione professionale, è passato ormai con le ultime cassazioni a essere un diritto del cittadino uti cives, cioè chiunque ha diritto di cronaca. Il fatto che per noi avvocati lascia un po' perplesso, perché noi abbiamo sempre legato il diritto di cronaca al giornalista, non abbiamo mai pensato che il cittadino avesse un diritto di cronaca, questo è un effetto secondo me di internet straordinario. Ci è arrivata la Corte di Cassazione, non ci sono arrivati i nostri legislatori, è secondo me un effetto casuale. I nostri legislatori arrivano a cercare di invece applicare al blog e ai siti internet, così li chiamano, e anche qui sembra un po' quasi ormai obsoleta come concezione, la legge sulla stampa. Cosa pensi? È un bene, cioè è un male assoluto come si legge in rete, o forse qualche cosa di buono c'è nel fatto di dire, vabbè, voi vi registrate, e così nessun giudice potrà mai sequestrarvi, nessun giudice potrà mai... è una questione che mi incuriosisce, insomma, non la darei così per scontata, come dicevo. Allora, questo è un dilemma, è un dibattito che c'è in tanti altri paesi, è, diciamo, legittimo, logico. Nell'analizzare questa proposta, ritornando un po' alla chiave di interpretazione che vi ho dato prima, è importante appunto vedere chi la fa e in che contesto, per cui è inevitabile, ovviamente, tirare in ballo la questione del conflitto di interessi, dei vari conflitti di interessi che si stratificano nella persona che propone questa legge, che è anche, non solo un deputato, ma è anche stato, o forse tuttora, il difensore del Presidente del Consiglio, che è anche il media tycoon, che anche, logicamente, avrebbe degli interessi commerciali a limitare la rete, oltre che degli interessi politici, a frenarne. Quindi, questo, secondo me, è una prima domanda che dobbiamo porci. L'altra questione è, sempre comparandoci agli altri paesi, e vedere che, in realtà, in Italia, oltre all'anomalia del conflitto di interessi del Presidente del Consiglio, ci sono anche altre anomalie, dal punto di vista legislativo, almeno rispetto a molti altri paesi europei, proprio sulla questione delle legislazioni che hanno a che fare con i media. I diritti fondamentali hanno sempre, ovviamente, gli individui, alla fine, che siano giornalisti o che non siano, o che siano, diciamo, solo, tra virgolette, cittadini. Normalmente, i giornalisti sono quelli che, di professione, usano l'informazione, però, ricordiamoci che la libertà di espressione, così come è definita, è per qualunque individuo. E qui arriviamo a una delle prime anomalie del contesto italiano, dove, di fatto, ci sono, cosa che, secondo gli standard internazionali, non dovrebbero esserci, delle barriere di accesso alla professione di giornalista. Quindi l'ordine, gli esami, eccetera, che è un concetto che va bene per gli avvocati, per i medici. Per i giornalisti, secondo gli standard internazionali, non dovrebbero esserci barriere di accesso alla professione, a parte, ovviamente, le barriere legittime legate alle dinamiche della ricerca di un impiego. Invece, in Italia, ci sono. Altra questione, la questione, ovviamente, delle, per esempio, ci sono dei dibattiti all'estero sulla depenalizzazione dei reati legati alla stampa, per esempio, la diffamazione. In Italia, invece, tendenzialmente, il dibattito, quando c'è, da parte della politica, verso un ulteriore giro di vite. Così, la questione, per esempio, delle famose richieste di risarcimento danni, che sono delle richieste di recente Milena Gabbanelli, ha scritto un articolo sul Corriere, lanciando una sorta di nuova proposta, campagna, in cui si richiede che, come in certi paesi anglosassoni, chi chiede un risarcimento danni debba mettere una sorta di piccolo deposito per mostrare, in qualche modo, la convinzione che è fondata questa richiesta. Invece, in Italia, c'è l'effetto annuncio, sparando delle cifre, perché lì poi non ci sono dei tetti, non ci sono del... E questo, ovviamente, sortisce il risultato di terrorizzare il redattore comune. Quindi, questo è il contesto in cui questa proposta si colloca. E rispetto a questo, con il Centro Nexa, nei prossimi mesi, l'idea è di lavorare su una ricerca che dovrebbe produrre un libro bianco sulla libertà di espressione e internet. Che cosa vuole essere questo? Vuole essere proprio uno strumento che contribuisce al dibattito su queste varie questioni quando sorgono. La questione, abbiamo definito prima, diciamo, infrastrutturale, nelle sue varie sfaccettature. La questione legale, cioè che ci siano degli strumenti giuridici che permettono il pieno sviluppo delle potenzialità di internet e di quelli che sono i diritti e i principi fondamentali, innanzitutto dai diritti umani, e poi ovviamente parliamo anche di... E qua abbiamo Antonella Pizzaleo, che sicuramente ce ne parlerà più tardi, dei diritti fondamentali su internet. Così anche un terzo, diciamo, elemento di questa ricerca vuole essere parlare di cercare di raccogliere le tante ricerche, le tante esperienze che ci sono già in Italia e magari di riunirle in uno strumento che ha anche delle finalità divulgative nel campo del ruolo di internet come piattaforma per lo sviluppo del discorso democratico. Questa è una definizione di Andrew Pudempatt riferita alle questioni libertà di espressione e media, però che si può sicuramente applicare a internet. E ha a che fare con, ovviamente, quanti sono, chi sono gli utenti, gli internauti, quanto questo strumento è ritenuto credibile. ha a che fare, per esempio, con l'alfabetizzazione, che è un altro aspetto fondamentale, per esempio in un contesto di autoregolamentazione di internet. Perché? Perché è vero che sullo schermo oggi posso leggere nello stesso modo un contenuto prodotto da un giornalista professionista e pubblicato su media tradizionale, un contenuto prodotto da un giovane blogger. Però l'alfabetizzazione su che cos'è questo strumento fa sì che, anche se appare sul monitor nello stesso modo, ovviamente degli strumenti culturali per pormi criticamente in modo diverso rispetto a questo. E quindi posso essere anche più, per esempio, tollerante, a meno che ovviamente abbia altri fini. Allora vado a denunciare il blogger 14enne per difammazione perché ha scritto su Facebook una cosa che altrimenti in un altro momento storico avrebbe semplicemente detto ovviamente in un contesto molto più ristretto. Scusate se mi intrometto, volevo solo chiedere il vostro punto di vista su una cosa che mi è capitata più di una volta. Cioè ragionando sul fatto che su internet è relativamente facile realizzare su scala planetaria, teoricamente per ogni singolo cittadino, quello che gli inglesi fanno da secoli a Heights Park con lo Speaker's Corner, è come è capitato spesso di sentire che questo è in realtà una cosa negativa. Cioè ho sentito spesso dire anche da persone di una certa elevatura culturale che dicono eh ma allora chiunque può dire quello che vuole senza realizzare che quello invece è veramente la realizzazione di uno dei diritti fondamentali e che ciascuno possa dire quello che vuole. Tra l'altro con aspetti negativi ancora minori che a Heights Park. A Heights Park uno può dire se passo lì davanti sento il pazzo che parla dell'apocalisse e mi dà fastidio. Su internet se non vado a leggere il blog del pazzo nessuno mi obbliga a leggerlo. Quindi gli aspetti negativi sono veramente ridottissimi. Ecco a voi è mai capitato di sentire considerare negativa qualcosa che invece dovrebbe essere riconosciuto universalmente come positivo? Beh io devo dire che però il rumore della rete può essere un problema. Cioè l'eccesso di informazione può generare disinformazione. Sotto questo profilo non lo sottovaluterei come problema. Mi do questa risposta. Cioè la rete sta dando prova di un grande come dire di grandi anticorpi di autodifesa. Tendenzialmente ciò che raggiunge l'utente è ciò che ha successo in rete tendenzialmente buono. Cioè ciò che non è buono viene in qualche modo per una forma che non mi so spiegare ma che è il bello della rete. Non so voglio dire Wikipedia sebbene abbia perso 50.000 editor solo nell'ultimo mese e questo dovrebbe far pensare è comunque un esempio di una sorta di anticorpo della rete. È difficile che ci siano delle stupidaggine. Allora se il rumore della rete è un problema cioè tutti che parlano può voler dire nessuno che capisce niente è anche vero che la rete ha i suoi anticorpi e quindi certamente non è un problema nella misura in cui la rete in quanto libera riesce a difendersi. Temo che regolamentare invece la rete rischierebbe di dare voce e di far apparire il pazzo più di quello che invece non apparirebbe se sembra paradossale ma questo è il mio pensiero. Un altro argomento che tipicamente quando si parla di speaker scorn viene tirato fuori in ballo è il discorso che la grossa differenza è che lì queste parole se non sei in quel momento ad ascoltarle poi svaniscono nell'aria e invece nella rete rimangono a futura memoria e questo ha a che fare poi con un altro dei grandi temi e dei grandi dilemmi legati allo sviluppo della rete che è la questione della privacy e in questo Carlo è un esperto nel senso che ovviamente si accumula tutta una serie di informazioni che poi in futuro possono essere e questo anche dal punto di vista dello stesso individuo che a 14 anni mette una certa cosa e poi se la ritroverà a 30 anni e potrà essere usata tra virgolette contro di lui. Ecco quello della privacy io l'avrei chiesto da Andrea perché è una garanzia è un limite anche questo al tempo stesso riflettevo per esempio il fatto che molti servizi gratuiti di internet non sono affatto gratuiti li pago con i miei dati cioè il mio dato diventa il soldo con cui io fruisco di servizi apparentemente gratis questo dato viene poi appropriato da tendenzialmente società commerciali viene elaborato io vengo profilato e sul mio dato vengono realizzati degli enormi profitti allora è lecito è legittimo nella mia libertà poter dire io voglio accedere a quelle informazioni ma non voglio pagare col mio dato non intendo dare il mio dato perché venga questo limita perché adesso dico una stupidaggine ma insomma io nel mio lavoro mi verrebbe bene di usare Skype poi leggi l'informativa della privacy di Skype e dici io non posso usare Skype come i miei clienti che essendo dei delinquenti e magari anche latitanti lasciano la traccia sulla rete delle nostre conversazioni allora perché comunque Skype raccoglie migliaia dei miei dati mentre io faccio allora io non posso fruire di questa di questa meravigliosa offerta il che non vuol dire che sia sbagliato per Skype però certamente come dire la gestione del dato che poi è la base dell'informazione che è la base del diritto di espressione diventa di nuovo centrale allora la privacy gioca secondo me questo doppio profilo cioè da un lato tutela il cittadino e dall'altro però inevitabilmente pensate al caso Google di Vivi Down voglio dire il caso Google di Vivi Down la privacy è piegata dalla procura di Milano per sostenere la responsabilità di Google Video cioè dice tu hai violato la privacy perché hai trattato dei dati che non potevi trattare che erano quelli del ragazzino contenuto nel video e dunque tu rispondi di diffamazione ora lasciamo stare che questa roba non sta dritta da un punto di vista sebbene siano stati chiesti un anno e sei mesi però di nuovo la privacy un po' come il copyright è una riete che rischia di come dire di infilarsi in maniera non così fluida nella libertà di espressione questo per me è un altro punto che deve essere affrontato forse non toccato e poi c'è parlando di questo ci sono poi degli aspetti per esempio della presenza di questo strumento che si riflettono anche sulla libertà di espressione nei media nei media tradizionali cioè adesso mi viene in mente il fatto per il fiumento a questo caso oggi come oggi un caso Watergate sarebbe completamente diverso perché la comunicazione che intercorse tra i giornalisti che scoprirono l'affair Watergate e la famosa gola profonda che poi si vent'anni dopo si è rivelato essere Mark Felt il vice direttore dell'FBI di allora ma la cui identità è stata protetta per vent'anni dai giornalisti come giusto che sia la protezione delle fonti è un diritto fondamentale e ci furono anche delle comunicazioni telefoniche e allora immaginiamo all'epoca il nemico diciamo era il Nixon stesso la Casa Bianca i suoi tra virgolette servizi deviati che avevano organizzato questo furto con scasso assolutamente illegittimo da tutti i punti di vista presso l'ufficio al Watergate Hotel dell'avversario politico di Nixon in quel contesto lì oggi come oggi ci sarebbero state tutta una serie di tracce elettroniche che sarebbero state facilmente rintracciate dalla Casa Bianca e quindi ci sono poi degli aspetti dove ripeto il punto fondamentale che non esiste ovviamente una risposta facile quick fix a tutte queste questioni c'è un continuo dibattito in in divenire e con questo libro bianco speriamo di di contribuire di riorganizzare certi certi idee certi elementi allo stesso tempo ripeto è sempre poi fondamentale andare a vedere quali sono le intenzioni di chi porta avanti certi e d'altro canto è anche molto importante per esempio pensiamo al caso del procuratore di Milano che come in tutti i diritti fondamentali ci sia una consapevolezza diffusa su che cosa si tratta e perché sono importanti a tutti i livelli da parte della polizia da parte ovviamente delle 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 strutture giudiziarie da parte dei cittadini dei politici perché i diritti è stata storicamente la stessa cosa rispetto al al diritto di la libertà di stampa non è solo ovviamente una cosa un privilegio dei giornalisti ma è un qualcosa che è utile a tutti e quindi perché questa diciamo venga veramente messa in pratica deve esserci una consapevolezza diffusa da parte di tutti quelli che esercita in qualche modo un potere ho tempo per un'ultima domanda o no? sì l'ultima domanda è questa mi pare che il più grosso ostacolo della libertà sia la paura in questo senso e credo in Italia lo viviamo in qualche modo la paura o meglio la fabbrica della paura per cui la pedofilia piuttosto che non il furto di identità piuttosto che non la proprietà intellettuale che viene stracciata su internet come dire porti ad un abbassamento proprio dei livelli no? cioè nella merce nel mercato delle idee l'insicurezza genera paura la paura allenta i diritti e in qualche modo accettiamo come cittadini che ci sia una pisanu che mi impone non mi permette di collegarmi wifi che allora c'è c'è in Italia in qualche modo ogni tanto abbiamo queste proposte di legge che poi grazie a Dio abortiscono per cui c'è l'inno al mafioso che esce fuori su youtube e si tutti si stracciano le vesti poi magari abbiamo un sottosegretario che è indagato e nessuno si straccia le vesti ma se uno canta su youtube un inno al mafioso youtube diventa cattivo e su youtube ci circolano idee sovversive e quindi bisogna fare una legge per allora la paura è così uno degli elementi e lo è anche in altre parti d'Europa questo è un po' l'ultima domanda beh sì è ovviamente uno strumento fondamentale per l'esercizio di un certo potere in un certo modo più tardi immagino si parlerà di internet governance forum e lì abbiamo paesi che diventano improvvisamente portatori difensori di principi che magari non applicano in patria quindi la manipolazione di questi principi è uno strumento che inevitabilmente ha in realtà un altro scopo quello di ostacolare e limitare grazie molto per aver postato tutti questi problemi e questioni che vanno che devono essere discutati negli prossimi anni e anche per cinque minuti di guaniati sul ritardo adesso cambiano le tre speakers per tre nuovi speakers grazie ancora e uso il tempo per ricordare una cosa che ha detto Vinton Surf che è uno degli inventori dell'internet che ha detto che sull'internet dobbiamo prepararmi a vedere cose che non amiamo ma c'è due soluzioni la prima è di fare che queste cose non esistano ma questa soluzione peggiora che il problema e la seconda soluzione è di educare i cittadini di domani a questa situazione è molto semplice a dire ma è molto più complicato a fare adesso abbiamo Antonella Pizzaleo e Elena Pavan per discutere di internet governance e il Nexa Center ha fatto una cosa molto importante che l'internet governance era discutato solo come il problema di management dei nomi a dominio e ha riformulato la domanda a cos'è il potere su internet chi l'ha o chi può l'avere Antonella Pizzaleo mi fa sentire molto vecchio perché ho lavorato con il suo padre ma il research fellow è in Nexa e va a parlare di queste question Elena Pavani è una sociologista e va essere la discutente per Antonella ringrazio Filippe Gren per questa introduzione ovviamente ringrazio i professori De Martin e Ricolfi per avermi invitato qui cercherò di rispondere a questa semplice banale domanda di cos'è il potere su internet e quali sono gli attori che partecipano a questa riformulazione anche del concetto di potere in questo tempo ovviamente scherzo il problema del potere e delle relazioni dei poteri che si giocano su internet è in qualche maniera il problema dei problemi perché tutti i discorsi che abbiamo ascoltato sinora sulla gestione tecnica della rete ma anche gli aspetti profondissimi legati alla dimensione del diritto ovviamente si riflettono nei rapporti di potere si riflettono in quella che è un'etichetta molto ampia e molto problematica della internet governance cercherò brevemente di mappare i confini di questi due problemi comincio proprio dal concetto di potere ovviamente è un concetto assolutamente molto denso è impossibile riassumere tutte le teorie sociologiche che da Max Weber ai sociologi struttural funzionalisti si sono sviluppate nel tempo ne scelgo una soltanto che è funzionale al discorso che andrò a fare di un sociologo Manuel Castels che si è occupato parecchio di reti di società delle reti e che ultimamente sta proprio concentrando la propria ricerca sulle relazioni tra comunicazione e potere cosa dice Manuel Castels il potere è la capacità strutturale da parte di un attore sociale di imporre la propria volontà su un altro o più di un altro attore quindi c'è una dimensione di influenza anche coercitiva da parte di un attore su un altro e la prima cosa che è interessante ai fini anche della discussione che faremo nella definizione di Manuel Castels è questa definizione abbastanza scevra dalla storia degli attori politici e dei decisori tradizionali di attore sociale lui parla di attore senza una caratterizzazione diversa nell'ambito delle relazioni di potere e questo cercherò di illustrare è fondamentale per capire le relazioni di potere all'interno della network society infatti quello che sta accadendo un processo iniziato sicuramente prima di internet ma che con internet trova la dimensione di evidenza maggiore è che stanno cambiando le relazioni di potere e i soggetti che questo potere esercitano dalla crisi dello Stato Nazione in poi progressivamente scusate la faccio molto breve ma spero che sia comunque comprensibile progressivamente entrano nella scena sociale e quindi nei giochi di potere nelle relazioni di potere soggetti differenti dalle agenzie tradizionali di decisione politica con i processi di globalizzazione e di messa in crisi appunto dell'autorità statuale quello che accade è che le relazioni di potere i rapporti di potere che altro non sono che relazioni di comunicazione o meglio la traduzione dei rapporti di potere sono delle relazioni di comunicazione si spostano sempre di più in una arena che è l'arena della comunicazione anche la sfera pubblica che ovviamente ha un peso fondamentale per le relazioni di potere trova il luogo di relazione di formazione all'interno dell'arena della comunicazione è sicuramente un passaggio molto analizzato e molto studiato da sin da Abermas in poi quindi dai primi studiosi che si occuparono di capire cos'è la sfera pubblica quello che sta accadendo è che con la società delle reti queste dinamiche di relazione di potere si stanno praticamente stravolgendo se la comunicazione è stata sempre molto importante con la società delle reti cambia completamente la relazione tra i vari soggetti quali sono gli elementi che introducono questa variazione molto forte si parlava prima di disintermediazione di capacità di possibilità da parte di ciascun individuo di intervenire in maniera diretta all'interno della rete e di agirla in maniera diretta la disintermediazione è proprio il primo punto che contraddistingue la nuova geografia delle relazioni di comunicazione al fine di stabilire dei rapporti di potere non è banale che ciascuno di noi possa intervenire su internet e dire la propria e connettersi con altri individui in maniera sicuramente inedita rispetto al passato un altro elemento molto importante che caratterizza la network society e quindi le relazioni di potere tra i veri soggetti è ovviamente la dimensione globale del fenomeno la globalizzazione nasce prima delle reti con il commercio e con le reti di comunicazione anche strutturali ma ovviamente con internet assume un fenomeno assume una dimensione dirompente e cambia quelli che sono le relazioni tra il territorio e le agenzie che esprimono il potere cioè anche le dimensioni delle relazioni per il potere si slegano in misura assolutamente maggiore rispetto al passato dal dato territoriale questo ovviamente non significa che ciascuno di noi abbia come individuo lo stesso peso all'interno della rete e la stessa possibilità di agire che hanno degli altri attori sociali ovviamente più che evidente non è così perché comunque i grossi attori le grosse agenzie tradizionali di decisione e di potere continuano anche in rete ad avere un'influenza molto forte la possibilità per ciascuno di noi di essere presente nella costruzione allargata e globale di definizione del potere non significa ancora un sovvertimento delle posizioni di forza però cambia sicuramente le dinamiche di relazione tra i vari attori e la etichetta internet governance fa proprio riferimento a questa molteplicità all'interno della discussione sulle regole per internet sul futuro della rete sulla struttura della rete alla molteplicità di soggetti il concetto di governance è proprio questo richiama direttamente la dimensione del multistakeholderismo ossia della molteplicità dei portatori dei soggetti portatori di interesse che partecipano alla discussione su internet sicuramente non è il primo oggetto nella storia che ha avuto l'esigenza di essere che interessa una quantità di attori diversi ma nessun ambito della storia dell'umanità come la rete interessa tutti quanti i cittadini e come dicevo prima li interessa in una maniera diretta lo dicevano prima gli interventi che mi hanno preceduto parlare di internet e agire in internet significa per ciascuno di noi innanzitutto una espressione dei propri una attuazione un'attualizzazione dei diritti individuali quindi agire in internet ha a che fare con ciascuno di noi perché internet è diventata la nuova arena e la nuova dimensione di costruzione della sfera pubblica e quindi al di là delle dimensioni economiche va ad impattare direttamente sul diritto sulla sfera dei diritti fondamentali di ciascun individuo per cui dicevo il concetto di governance richiama immediatamente questa molteplicità di attori sociali che partecipano al dibattito su quelle che devono essere le regole della rete questi attori possono essere schematizzati in tre macro categorie la società civile che vedremo è l'ultimo ad essere arrivato nella discussione pubblica sulla governance di internet il mondo del business e della dimensione privata e commerciale che ovviamente ha dei grossissimi interessi in rete e gli attori tradizionali di regolamentazione ossia gli stati nazioni tutti questi attori hanno esprimono i propri interessi il proprio punto di vista ovviamente cercano di costruire le proprie relazioni di potere ovviamente con modalità diverse che si sono determinate anche storicamente in maniera assolutamente differente storicamente quali sono stati i due poteri che hanno inciso maggiormente nello sviluppo di internet da un lato quella che in termini giuridici viene definita autoregolamentazione e dall'altro subito dopo il potere degli stati in azione internet si sviluppa grazie all'apporto di comunità tecniche che senza come diceva Juan Carlos prima in maniera libera hanno potuto sviluppare dei protocolli che consentissero ad internet di funzionare immediatamente dopo ricordiamoci che internet nasce presso il dipartimento della difesa USA immediatamente dopo lo stato cerca di entrare nella regolamentazione della rete cerca di far valere il proprio rapporto di potere il proprio peso nella regolamentazione di internet ovviamente si crea un conflitto iniziale tra queste due sfere di attori sociali queste due sfere che esercitano il potere su internet un conflitto che non è assolutamente ancora risolto anzi è ben lungi dall'esserlo e che comunque crea degli effetti ancora molto significativi anche oggi se l'apporto dell'autoregolamentazione e di coloro che hanno lavorato sin dall'inizio in maniera libera su internet sia in qualche maniera mantenuto costante nel sviluppo storico della rete così non è stato per l'apporto che hanno dato gli stati in azione gli stati uniti hanno sin dall'inizio influito sulla governance di internet e mi riferisco in particolare alla prima accezione come ricordava Filippe Gren di governance cioè di management tecnico delle infrastrutture tecnologiche di internet dicevo gli stati uniti sono entrati abbastanza presto nella storia dello sviluppo di internet a regolamentare queste strutture tecnologiche ricordiamo che tutt'oggi ICAN e IANA sono le due strutture che strettamente legate al dipartimento del commercio degli stati uniti tutt'oggi nonostante la globalizzazione e l'allargamento di internet al di fuori dei confini degli stati uniti mantengono il controllo sulla dimensione tecnologica della rete quindi ovviamente il peso dello stato nazione all'interno in particolare degli stati uniti all'interno di internet è molto forte ed è difficile prescindere da questa presenza piuttosto ingombrante cosa è accaduto successivamente man mano che internet si è esteso e che ha interessato soggetti un numero di soggetti sempre più vasto ovviamente si è sviluppato un discorso più globale relativo alla governanza di internet non solo gli stati uniti ma tutti gli altri paesi hanno o stanno cercando di avere voce in capitolo nella governance della rete e crescono anche parallelamente gli interessi dei soggetti commerciali del mondo business che non incidono direttamente non producono direttamente regolamentazione per internet ma ovviamente hanno un grosso impatto nella gestione della rete quello che la risposta che si sta cercando di dare a questo pullulare di soggetti che hanno a che fare con internet e chiedono a gran voce di avere un'incidenza sempre maggiore è un esperimento che è partito nel 2006 un esperimento condotto da parte delle Nazioni Unite che si chiama Internet Governance Forum dopo due appuntamenti che hanno preceduto gli Internet Governance Forum dedicati alla società dell'informazione le Nazioni Unite hanno deciso di creare di porre le basi per questo appuntamento per questo ciclo di appuntamenti annuali della durata complessiva di 5 anni l'ultimo ci sarà il prossimo anno in cui che avevano lo scopo di riunire tutti gli attori sociali di tutto il pianeta e cercare di mettere a confronto le varie stanze e le varie posizioni di questi attori proprio per cercare di creare una sorta di mainstream delle posizioni comuni sulla governance di Internet ovviamente si tratta di un esperimento inedito per la capacità di coinvolgere un numero di attori così vasto è un esperimento anche molto complicato perché ognuno è portatore di un punto di vista differente e perché gli Internet Governance Forum non sono un luogo in cui si prendono delle decisioni ma sono un luogo in cui si mettono a confronto delle posizioni differenti qual è il valore degli Internet Governance Forum questa è una domanda cruciale che ha una risposta molto complicata schematizzando e riassumendo perché il tempo sta anche passando le posizioni prevalenti sono due e sono assolutamente contrapposte c'è una parte di coloro che si interessano a questi argomenti che sostiene che gli Internet Governance Forum siano in realtà abbastanza inutili proprio perché si tratta di un luogo di confronto e non di decisione non hanno degli output rilevanti hanno sì l'utilità di mettere in rete i soggetti che si occupano di questi argomenti di farli incontrare di farli conoscere ma questa è un'utilità marginale piuttosto relativa coloro che invece supportano il processo dicono che sicuramente è molto complicato ridisegnare le relazioni di potere di Internet sicuramente gli IGF non sono dei luoghi dove si decide e si riesce a cambiare la natura delle cose ma sono comunque l'unico luogo che abbiamo l'unico esperimento che si è dato a livello internazionale per cercare di mettere a confronto soggetti diversi che progressivamente stanno comunque facendo pressione sulle agenzie tradizionali di regolamentazione solo un'ultima battuta lo spostamento del concetto di governance da management tecnico della rete a diritti alla dimensione dei diritti dei cittadini si è avuta probabilmente proprio perché l'apporto della società civile che dicevo prima è l'ultimo stakeholder ad essere intervenuto nella discussione sulla governance di internet ha comunque portato a questo risultato importante allora ringrazio anch'io per essere stata invitata a partecipare a questa giornata proviamo un format diverso da quello di prima io volevo commentare un paio di aspetti che Antonella aveva portato in questa assemblea dicendo che è un compito abbastanza arduo nel senso che bisogna suggerire come discussant direzioni per sviluppare un tema che è complesso senza farlo diventare complicato e in effetti internet governance può essere molto semplice da capire perché alla fine stiamo parlando di relazioni di potere e stiamo parlando di un processo dove si decide chi decide fondamentalmente questa è una vecchia storia che ha fatto tutto lo studio della politica e dei processi politici e poi Juan Carlos ci chiede di parlare di potere che chiedere a un sociologo di parlare di potere come darlo zucchero a un diabetico lo vuoi tantissimo poi alla fine ti uccidi perché non riesci più a fermarti ma fa male quindi bisogna cercare di essere di stare in binari abbastanza precisi allora io partirei proprio dalla questione appunto del potere perché è un po' il leitmotif di questo discorso Antonella diceva prima che accennava a questo ultimo sviluppo dell'internet governance cioè l'aver costruito uno spazio di dialogo libero dove formalmente attori di natura diversa sono partner legittimi e quindi da un punto di vista di potere hanno potenzialmente lo stesso potere di decidere il futuro delle regole della rete quindi la premessa è parità di potere quelli che dicono che questo esperimento è inutile si basano su una definizione di potere come quella di Castells nella quale imponi la tua volontà ad un altro soggetto che tipo di volontà verosimilmente gli fai fare quello che vuoi la visione tipica del potere è che un governo prende una decisione ed obbliga i cittadini a comportarsi secondo quella linea che ha dettato appena pagare le sanzioni che valore ha invece il potere di costruire collettivamente una visione condivisa del futuro della rete questa è una domanda che rimane di difficile risposta perché effettivamente durante il periodo del dottorato io ho potuto raccogliendo dei dati anche mostrare che effettivamente c'è stato un esercizio di potere la società civile è entrata in luoghi che prima erano preclusi alla partecipazione politica sana e genuina che non fosse un tentativo di cooptare le voci dei ribelli diciamo così nelle varie discussioni politiche anche spinose perché si sa che la rete internet è potenza è potenza di creare idee di anche fomentare i movimenti costruire esattamente come lo furono i libri negli anni 90 quindi la società civile entra in aree che erano precluse prima e cambia internet governance non è più IP non è DNS non sono tutte queste sigle che a noi sociologi sono assolutamente sconosciute ma è freedom of expression è open access è open standard è apertura è collaborazione qual è il valore aggiunto aver cambiato un issue che è diventata rilevante e che per tanto tempo è stata soltanto materia tecnica qual è il problema che sta dietro io apro così un po' ad Antonella il il fatto che bisogna dare valore a questa forma di potere il problema è questi esperimenti per cambiare la governance di internet si basano su quello che viene chiamato di solito soft power allora soft e io così ti ripasso la palla non vuol dire weak non vuol dire debole allora se noi abbiamo costruito anche partecipando una nuova visione di internet governance abbiamo costruito in questo caso qual è appunto secondo te la modalità di dare visibilità a questa forma di potere e in più ci attacco un'altra domanda non che le mie analisi siano una bibbia però dalle mie reti veniva abbiamo studiato internet governance attraverso lo strumento delle reti le reti per noi sono diventate uno strumento empirico di ricerca andavamo a vedere come si costruivano i legami tra i concetti e fra gli attori sociali interessantissimo vedere che la società civile è la torre centrale di questo processo politico ha fatto la differenza ha creato il dialogo e la convergenza e questo è testimoniato anche da regressioni che i sociologi piacciono tantissimo con un sacco di asterischi era tutto super significativo però io avevo un grosso problema mi mancava il settore privato il business nelle mie reti non c'era e non c'era neanche in altri tentativi di mappare attraverso non questionari ma attraverso la presenza sul web dei contenuti legati alla governance di internet e quindi le mie domande alla fine sono queste cioè qual è il valore aggiunto e quali sono gli sviluppi futuri della governance di internet grazie a questo processo e dall'altra parte dove sta il business in questo tentativo di ridistribuire il potere grazie allora futuro della governance di internet dicevo i problemi non sono assolutamente risolti e non è chiaro neppure come l'esperimento delle Nazioni Unite continuerà si è appena concluso il quarto e penultimo appuntamento di questo primo ciclo previsto degli internet governance forum e rispetto agli anni precedenti è stato piuttosto significativo vedere come siano emersi per la prima volta in maniera esplicita i problemi che sono proprio dietro l'internet governance forum e ovviamente dietro la governance di internet cioè quando il sottosegretario delle Nazioni Unite Shadzu Kang ha chiesto ai vari soggetti che hanno partecipato all'IGF di Sharmesheik che si è appena chiuso di pronunciarsi di pronunciare il proprio parere sulla opportunità di continuare o meno con gli internet governance forum c'è stato un consenso abbastanza generale salvo due casi ovviamente molto eclatanti la Cina e l'Arabia Saudita cioè questi nuovi imperi questi nuovi mondi che ovviamente pretendono di avere un peso assolutamente più forte di quello che hanno tuttora e una relazione di potere molto più equilibrata con gli Stati Uniti hanno detto esplicitamente che per loro l'Internet Governance Forum così come è stato condotto è stato un fallimento perché non ha risolto il problema di fondo che è l'unilateralismo della gestione tecnologica della rete è un problema ovviamente che tutti sentono e nelle scorse edizioni del forum era rimasto un po' relegato alle chiacchiere di corridoio ai come dire doveva essere rintracciato nelle frasi che si dicevano in questo IGF invece è emerso con un'evidenza piuttosto forte le altre linee quali sono state parlo ovviamente di interventi non solo governativi ma sia del business che della società civile tutti quanti hanno detto che gli IGF possono anche continuare ma sostanzialmente deve essere allargata la partecipazione di tutti gli attori sociali al governo di ICAN quindi il problema è stato ancora una volta comunque riportato all'interno delle strutture che attualmente gestiscono il potere infrastrutturale della rete per cui l'IGF è considerato mediamente un esperimento utile perché crea rete crea contatti tra mondi differenti e comunque è un luogo dove si sviluppa un dibattito interessante e si mettono in evidenza i vari punti di vista ma il problema comunque continua ad essere rimandato ad ICAN brevissimamente perché credo che siamo fuori tempo ICAN ha allargato ha modificato le proprie regole di funzionamento ma non si capisce ancora quanto questa modifica sarà concreta e quanto invece si tratta di una finta apertura seconda domanda brevissimamente peso delle imprese è fortissimo perché come dimostrano anche gli IGF i grandi giganti del web Google Yahoo sono partecipi in una maniera molto forte e mostrano di essere molto più rapidi delle state nazioni e molto più veloci a capire come il potere non è solo forza ma è anche consenso e quindi come si mostrano sensibili all'intercettazione di queste istanze che provengono dalle società civile ovviamente è un'operazione di convenienza ma comunque qualunque sia la motivazione che spinge si sta raggiungendo un cambiamento profondo grazie molto e scusi per interrompire e solo qualche parola per dire che questi esperimenti di governance multiattori asimmetrici con partecipazione del business dei governi e della società civile non sono esperimenti solo per l'internet sono laboratori per l'invenzione di nuove forme di governo internazionale e sono anche se sono più deboli che vogliamo e sono molto importanti da studiare grazie molto adesso l'ultimo speaker di questa sessione il professor Mario Calderini e il professor stradionario al Politecnico insegna il management e la strategia dell'innovazione e anche il presidente di Finpiemonte l'agenzia di sviluppo della regione Piemonte e non sorpresamente va a parlare di innovazione di internet l'internet è un ha stato descrivato un spazio dove si può innovare senza permissione adesso come si si passa grazie grazie mille grazie dunque grazie dell'invito mi fa molto piacere poter dire molto in breve qualcosa dentro un perimetro che essendo definito dalla combinazione di due parole che già da sole definiscono i perimetri infiniti poi la combinazione di queste due parole sostanzialmente abbraccia un portafoglio di temi piani di ragionamento enormi e proprio per questo in qualche modo credo che possiamo dedicare questi dieci minuti forse a ricondurre questo proliferare di diverse modalità categorie di ragionamento che si sono sviluppate attorno a internet innovazione su alcuni veramente sei ne avevo me ne sono segnati sei grandi questioni che attengono appunto al problema rapporto reciproco bilaterale tra la piattaforma internet e innovazione allora io vorrei cominciare dalla prima che è quella che per me un po' inspiegabilmente è stata forse la meno centrale nei ragionamenti degli economisti dell'innovazione che si sono un po' occupati di internet e che speravo in qualche modo che essendo questo l'anno del premio Nobel a Oliver Williamson tornasse tornasse un po' attuale Williamson non ha preso il premio Nobel per l'analisi transazionale però in qualche modo ci rimane il suo lavoro in cui per farla molto breve ci dice che i confini delle organizzazioni i rapporti verticali tra organizzazioni e le modalità transazionali sono largamente definiti dalle condizioni informative in cui operano gli agenti economici ora a me sembra abbastanza evidente che una questione fondamentale è che internet ha violentemente brutalmente modificato le condizioni informative in cui operano i mercati e questo evidentemente cambia ha cambiato la faccia ad esempio delle organizzazioni verticali cioè dei rapporti tra imprese dei loro fornitori tra imprese e loro concorrenti e quant'altro questo è un grande tema di ragionamento economico e ovviamente il cambiamento forte delle condizioni informative in cui operano i mercati in qualche modo impatta in via diretta sulla capacità innovativa o sulla risultante prestazione innovativa dei sistemi economici in generale diciamo tagliando a fette molto rozze un ragionamento un po' più complesso è evidente che il miglioramento delle condizioni informative che mi sembra abbastanza intuitivo poter associare la disponibilità delle tecnologie dell'informazione in particolare di internet migliora le condizioni di concorrenza e di competizione all'interno dei mercati il fatto che migliorino le condizioni informative e quindi la competizione dei mercati in qualche modo dovrebbe aumentare diciamo la componente di selezione la componente selettiva che è una componente fondamentale dell'innovazione dei sistemi cioè il fatto che alcuni diventano più bravi e quindi questo fa innovare complessivamente i sistemi economici alcune imprese diventano migliori laddove siano esposte a condizioni competitive più forti laddove siano sottratte a posizioni di rendita dovute appunto a condizioni informative non particolarmente complete inoltre oltre a far migliorare i migliori dall'altra parte fa anche uscire morire uscire dai mercati i peggiori farebbe uscire dai mercati i peggiori questo non mi sembra abbia ancora dispiegato il fenomeno diciamo di miglioramento darwiniano lamarchiano che aveva un po' descritto Schumpeter non mi sembra abbia ancora dispiegato i suoi effetti più rilevanti perché le condizioni diciamo la capacità dei sistemi politici e sociali di accettare processi selettivi violenti agevolati da competizione più forte non è ancora adeguata e quindi tutto sommato i sistemi sociali e politici hanno dispiegato grandi strumenti di protezione e di mitigazione di questi effetti selettivi indotti anche dalla più alta competizione che esiste su internet in realtà se vogliamo ben guardare questo argomento della selettività e della competizione nella letteratura economica non accetta in maniera particolarmente serena l'associazione più competizione più innovazione perché abbiamo abbondantissima evidenza empirica che alcuni grandi processi innovativi sono nati all'interno di rendite monopolistiche su grande scala o su piccola scala e su questo potremmo potremmo ragionare quindi non è detto che se è vera l'ipotesi che internet dia condizioni informative con queste maggiore competizione quindi crei condizioni pro-competitive nei mercati non è detto che questo agevoli grandi traiettorie innovative radicali questo è il primo tema naturalmente l'altro tema è abbastanza è abbastanza evidente che una delle questioni fondamentali è la messa a disposizione di uno stock dei sistemi industriali dei sistemi economici messa a disposizione di uno stock di conoscenza infinitamente superiore a quello che era a disposizione qualche tempo fa allora quando anche questo stock di conoscenza di alcuni ordini di grandezza superiore a quello che era a disposizione qualche tempo fa quando anche questo non fosse completamente fruibile comunque rappresenta una condizione di innesco di processi innovativi lineari abbastanza abbastanza evidente da questo tema se ne dipartono quindi dal tema del fatto che internet tutto sommato mette a disposizione conoscenza anche semplicemente in quantità maggiore poi sulla qualità c'è una discussione aperta su cui non ho gli strumenti per entrare ma c'è una quantità maggiore si ripartono due temi il primo tema è quella diciamo che internet oltre a mettere a disposizione della conoscenza mette a disposizione anche uno strumento che in qualche modo ha abilitato una diversa struttura di incentivi da parte degli innovatori tutto sommato il fatto che si siano nati strutture di incentivi diverse dalla semplice appropriazione ex legge dei risultati dello sforzo innovativo quindi open source per capirci e tutto quello che largamente sta attorno probabilmente è anche dovuto al fatto che esiste una piattaforma su cui le forme di incentivo diverso diciamo non monetarie derivanti da proprietà intellettuali in senso stretto hanno potuto fiorire quindi tutte le cose reputazionali ideologiche non monetarie che conoscete probabilmente molto molto meglio di me quindi però questo è anche un effetto indotto di internet e anche della sua capacità di creare community diciamo non strettamente legate appunto all'appropriazione stretta del valore di innovazione l'altra questione è la questione del fatto che internet non solo ha messo a disposizione questo grande stock di conoscenza ma in qualche modo ha anche messo a disposizione dei nuovi strumenti di intermediare questa conoscenza e qui diciamo il capitolo che si apre è quello dell'open innovation cioè del fatto che ci sono imprese anche importantissime probabilmente Procter & Gamble è stata la prima poi Nokia e molte altre che hanno radicalmente cambiato il loro modello innovativo sostanzialmente spaccando i muri del laboratorio in cui sviluppavano le loro idee e aprendosi alla grande e l'immagine la descrizione un po' immaginifica quella tipica che si usa alla lezione numero 2 di un corso di management dell'innovazione cioè il classico imbuto in cui entrano le idee da cui escono i prodotti all'interno delle imprese in queste imprese è diventato un imbuto tutto sforacchiato in cui entrano nel processo delle cose dall'esterno e qualche volta dall'imbuto anche escono e vanno a nutrire altre traiettorie innovative allora il mestiere che fa Innocentive il mestiere che fa Nine Sigma cioè intermediare conoscenza far sì che un'impresa possa postare su un sito le proprie un proprio problema tecnologico e attraverso crowdsourcing possa reclutare alla risoluzione di questo problema una comunità infinita e un'intelligenza distribuita infinita per il mondo è evidentemente abilitata largamente dalla disponibilità di questi nuovi strumenti questo sta diciamo creando due cambiamenti enormi da un lato un cambiamento radicale nell'organizzazione interna dei processi innovativi delle imprese dall'altro aprirei una piccola riflessione anche su un tema di politica locale dell'innovazione perché sostanzialmente internet ha spiazzato un processo innovativo delle politiche che stavano diventando politiche di tripla elica locale cioè accademia industria e politica ma che ragionavano e hanno costruito un modo di interagire che ha sostanzialmente nella dimensione geografica un ingrediente importantissimo questo internet quello che si porta dietro la capacità di innovare i processi innovativi e imprese il fatto che la conoscenza a questo punto è largamente distribuita in qualche modo ha spiazzato ha reso immediatamente anacronistico questo modello e ci dice una cosa su cui non abbiamo ancora da cui non abbiamo ancora capito bene come uscire cioè che la dimensione la prossimità geografica nonostante gli economisti che appartengono alla mia comunità scientifica si siano appassionati alla rilevanza della prossimità geografica si sta venendo sostituita da nozioni di prossimità che con la dimensione geografica hanno pochissimo a che fare altro discorso è che noi queste nozioni di prossimità ancora non le abbiamo tanto sviluppate perché se dobbiamo immaginare un distretto virtuale definito sulla prossimità cognitiva e non sulla prossimità fisica ancora non sappiamo bene da che parte da che parte incominciare finisco con quella che forse con due piccolissime riflessioni di un minuto se ho tempo con una che è evidentemente la riflessione più banale ed è il fatto che internet è un grande abilitatore di cambiamento strutturale nell'economia in quanto è un grande generatore di nuovi modelli di business e anche di nuove dimensioni strategiche perché non è solo Amazon non è solo Ryanair non è solo Google non sono tutti nuovi modelli di business nascenti da questa grande piattaforma che sono in realtà un grande strumento di innovazione ma è anche un nuovo nuodo diciamo l'aggiunta di nuovi assi strategici ancora sconosciuti diciamo la storia dell'iPod è la storia di un prodotto che è diventato quello che è largamente perché la strategia si è giocata su iTunes e soprattutto sulla particolare definizione dei diritti di proprietà e dei diritti di accesso tra iTunes e il prodotto e questo evidentemente apre una nuova grande prospettiva infine non l'avevo in mente ma me l'ha ispirato la conversazione che ho appena sentito e così è una nota anche un po' diciamo di vagamento autobiografica di questa ultima diciamo esperienza di politica di innovazione non dimenticherei che questa grande democratizzazione dei processi decisionali è stata fondamentale è fondamentale in politiche nelle quali la dimensione concertativa in cui l'informazione rilevante è largamente dalla parte dei soggetti finanziati e quindi diciamo l'esigenza concertativa è un'esigenza di importanza fondamentale e in questo la piattaforma evidentemente rispiega moltissima della sua forza grazie grazie e grazie anche per il superbo management del tempo ho ricevuto solo una domanda e che è perfetta è una domanda per Andrea Cheroli credo e provo di leggere correttamente per diminuire i rischi di equiparazione dei blog o siti di informazione attestate giornalistiche potrebbe essere utile l'abolizione dell'ordine dei giornalisti almeno è una questione che posso fare dibattito sì è già in sé uno statement su un'affermazione assolutamente non lo so fa parte sicuramente è un statement formulato come un acquist appunto la 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 questione è più ampia e quando parliamo di libertà di espressione di internet non dobbiamo anche dimenticarci della libertà di espressione nei media tradizionali in questo l'Italia appunto essendo un'anomalia forse bisogna risolvere la distorsione a monte per poi lavorare anche sul sul futuro grazie vorrei ringraziare Filippo Egren che anche per i suoi sforzi di parlare di grande successo di parlare in italiano nel condurre questa sessione inizia senza soluzione di continuità la seconda sessione intitolata il futuro dei contenuti digitali tra diritto e tecnologia nei due interventi che cominciamo con questi tre poi passiamo a tre successioni i due interventi prima della pausa pranzo chiederò agli speaker di provare a limare cinque minuti dai trenti a previsti così riusciamo a recuperare dieci dei quindici minuti di ritardo e nonostante siano entrambi temi strabilianti che potrebbero occupare ore e ore